con grande attenzione. Favorire lo sviluppo di un'agricoltura competitiva e sostenibile in grado anche di rispondere alla domanda di trasparenza dei consumatori. Questi gli obiettivi della riforma della PAC, la politica agricola comunitaria. Sentiamo Barbara Capponi. La domanda globale di prodotti agricoli aumenterà di circa il 70% nei prossimi 40 anni. Da qui la necessità che la nuova politica agricola comune sostenga il ruolo strategico delle imprese agricole. È fondamentale, sostiene Coldiretti, che all'Italia con la futura riforma della PAC siano assicurate le risorse necessarie per evitare una penalizzazione come risulterebbe dalle attuali proposte. L'Italia perde circa 250 milioni l'anno con questa proposta. Non è giusto perché l'agricoltura è forse più efficiente, forse più di qualità, forse più sicura e sicuramente quella più produttiva in termini ambientali è quella più penalizzata. Poi c'è una necessità di ridefinire i soggetti che debbono prendere le risorse. Un fondo anticrisi specifico per sostenere le aziende agricole, ma anche mutui e fondi assicurativi a cui potranno contribuire gli stessi agricoltori. Sono solo alcune delle misure previste dalla riforma illustrate oggi a Roma dal commissario dell'Unione Europea all'agricoltura, Ciolos. L'Italia produce il 13% del valore della produzione agricola dell'Unione Europea a fronte di una superficie agricola pari al 7% del totale europeo, ha sottolineato il neoministro delle politiche agricole Mario Catania, che ha aggiunto Dobbiamo far di tutto per riconcentrare la politica agricola e i suoi sostegni sull'impresa, su chi fa agricoltura, chi conduce l'azienda, chi produce per il mercato.